Il terzo giorno di raduno presso il Centro Sportivo Interamnia e la Gaetano Bonolis Teramo ha ricevuto la visita di Bruno Banal, responsabile della scuola calcio dell'AS Roma. Fiderico Carboni, durante il terzo giorno di raduno della scuola calcio Gaetano Bonolis è arrivato presso il Centro Sportivo Interamnia un ospite d'eccezione, il responsabile della scuola calcio dell'AS Roma, Bruno Banal. Sì, è tornato Banal che è responsabile delle scuole calcio e anche delle affiliate. Una visita importante che testimonia comunque sia la vicinanza della Roma alla nostra realtà e non è la prima perché comunque sia viene costantemente a Teramo almeno una volta due al mese per chiaramente controllare l'attività che svolge la nostra scuola calcio, il lavoro degli istruttori perché comunque sia condiviso con la società capitolina. Una partnership è quella con l'AS Roma che riempie d'orgoglio la Gaetano Bonolis Teramo, no? Sì, è la partnership principale che abbiamo con questa realtà e questo è anche il secondo anno. Chiaramente, come abbiamo più volte detto, l'obiettivo è quello di collaborare anche con le realtà del territorio regionale e le realtà rimitrofe alla nostra città per cercare di far crescere questi ragazzi che attualmente abbiamo noi. I primi obiettivi chiaramente li abbiamo già raggiunti e questo ci rende comunque sia orgogliosi del lavoro svolto. Già un ragazzo è partito ed è andato in questo senso a Pescara, Matteo Di Stefano, quindi ciò testimonia, insomma, il lavoro svolto dagli allenatori è stato sicuramente di qualità. Speriamo che si continui così e che la scuola calcio possa crescere ulteriormente. Come stanno andando questi primi giorni per la scuola calcio Bonolis? Siamo, da questo punto di vista, siamo veramente soddisfatti. Insomma, è stato premiato il lavoro della scorsa stagione. In primo luogo, io dico sempre dalle famiglie perché poi sono loro quelle che si impegnano economicamente, ma anche dai bambini che sono venuti all'accoglienza e domani poi ci sarà anche l'ultimo giorno, dalle ore 15.30 sempre al Centro Sportivo Interamia, una risposta veramente importante che da una parte ci rende felici, dall'altra ci spinge ancora a fare meglio per questa stagione che sta iniziando per le nostre giovanili.